Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo su una nuova serie, intanto faccio l'unboxing di una saga, di un gioco, una nuova categoria di gioco che non ho mai portato sul mio canale, ma dovevo portarlo, ma alla fine l'ho perso. Allora, il gioco che andiamo a giocare oggi è... Mortal Kombat 11 L'ho appena comprato, è appena uscito e ne faremo una bella partita. Ok signori, l'ho scartato, eccolo qua. Dentro c'ha una copertina esattamente uguale a quella di prima. Sembra che sia in metallo, ecco quella copertina e dietro le due iniziali del gioco. Adesso è il momento di andarlo a provare. Ok, andiamo a inserire il gioco. Non ceco io. Ok, è stato lentissimo. Allora, eccolo, vai. What? What the fuck? Vai. E no, basta con questi aggiornamenti! Oh, gamma. Lo mettiamo così, ecco. Poi, visualizzazione... HDR... Ah, tanto non lo posso niente. Experience out. TV. Non ho le casse. Auto parlante controller wireless. Dai, sì, dai. Eccolo, eccolo! Dai, yeah! Combatti! Che fanno per primo? Fanno una bella conquista! Torre del tempo, torri classiche... Storia, per favore, non adesso. Palestra, proviamo a palestra. Allenamento, tutorial... Allenamento alle fatali. Allenamento, dai. Impossibile di sostenere il tuo inventario online con il server molto accomodo. Le tue varianti potrebbero non essere aggiornate. Vuoi continuare? Vai. E chi volete che sceglia? Ovvio. Lo sfidante. Eeeh... Oh! Effetto all'accesso... Ah, tutto qui... Tant'altro sono online. Bang! Eeeh... Questo. Non mi ricordo, comunque. Corro, ok. Ok, se faccio poi ci salvo. Così, così... Così mi ricordo che affer... Così mi ricordo che afferde. Eeeh... Boom! Dai, yeah! Non so però come si fanno le fatali. Vediamo un po'... Comandi. Allora, vediamo un po'. Allora, pugno anteriore. Vabbè, lanci. X. Pugno posteriore, triangolo. Calcio con quadrato. Calcio posteriore, cerchio. L1. R2 parata. Ok, il... Le... Fatality... Non so come fare. Eeeh, che calcio! Ah, così. Mi devo avvicinare a lui. Fatal Down. Ma come c'è? R1, R2... Come diametri ci fanno le fatality? Fatal Down. Vabbè. Ok. Più o meno sto capendo. Vabbè, sto fermando sempre il questo caso. Cos'è? Parata. Movimento. Quadrato pugno in ulteriore. Così, pugno ulteriore. Ok. Molto semplice. Dal prossimo episodio inizieremo a... Ah, ci farò due serie. Tre serie. Una in multiplayer. Bene. Adesso che abbiamo capito un po' i comandi, alleniamoci con le fatality. Questo sarà tutto tutorial, perché veramente non so niente. Vedremo tutte le fatality. a iniziare la voce di Scorpion, perché veramente è fichissima. Ok. Questa, direi. Tutti i Sub-Zero. Allora. Alcuni ci chiedono. Chi è più potente? Scorpion o Sub-Zero? Per me, letteralmente, Scorpion. È più figo, secondo me. Allora. Benvenuti all'elemento per le fatality. Impara i comandi e le distanze corrette per ogni fatality. Distanza e tempo massimo. Attiva. Attiva tempo massimo della fatality. Che dire che... Finish him. Finish him. No, come... Catch. Ah. No, ma che... Poca troia, che figo. No, ma... Riproviamo, dai. Ho imparato un po'. Ho imparato un paio dei comandi lì della fatality. Sì, sì, sì. E cosa avevo scelto? Finish him. Finish him. Eccola! Troppo bella! Bellissima! Get over here! Troppo bella! Cambiamo? Combattero? Non so... Io li chiamo combat... Combattenti. Allora, proviamo adesso... Sub-Zero! Perfetto. Contro un altro Sub-Zero! Preghiamolo su uno scenario di ghiaccio. Che non c'è. Vabbè, questa che... C'è il celeste, perché il celeste è ghiaccio. Anche se è trasparente. Però, nei cartoni e nei film, sembra che... Boom, boom, boom! Eccola! Troppo bello! Fantastico! Fatality! Sub-Zero! Win! Fantastico! Fantastico! Da quanto è che aspettavo da questo gioco? I tipi quando l'hanno annunciato! Poi, prossima fatality! Cioè, prossimo Compatero! Andiamo con... Aaron Black! E pure con fucili! Ecco, mi sembra Thanos! Vabbè, proviamo su uno scenario di casa! Addirittura, addirittura con la lama di Simon in... Vabbè! Tata, tata, tata! Tata, tata! Tata, tata! Tata, tata! Eccola! Boom! E adesso... Te becchi calcio! Troppo bello! Fantastico! Vabbè, questo qui... Questo episodio sarà soltanto un episodio di prova! Poi dal prossimo episodio iniziamo con qualcosa di più pesante! Penso che lo porterò tutti i giorni! Mi interessa molto... Scarlet... No! Lui! Che sembra l'imperatore di Star Wars! Che, notando... Vedendo che... Rider... Che... Sembra che in questo nuovo capitolo... Di Star Wars The Rise of Skywalker... Sembra che tornerà l'imperatore, no? Perché alla fine del teaser si senta la sua risata... Ma vabbè... E... Ma... Vabbè... Questo video sarà pieno di tagli... Dunque, eccoci qui con Rider! Allora... Boom, boom, boom... Eccola! Eeeh... Fighissimo! E visto che... Stiamo per concludere l'episodio... Famos una balla battaglia... Con la CPU... Con la nostra... Caramata... CPU... Combate... Torneo... No, vabbè ci sono anche i tornei... Locale, online... Battaglia normale... Non sei connesso... Scrivi uno verso su uno... Con gli amici... O il computer... No... Ecco... Il computer... Questa è la prima volta che giochi a Mortal Kombat... No, se no ci fa affatto tutto il tutorial... È impossibile che sono connessi... Vabbè... Mettiamo... Sub-Zero... Eh... Facciamolo facile... Visto che è la prima battaglia che gioco con la CPU... Questa... Poi dal prossimo episodio iniziamo tipo... Con qualcosa di più pesante... Tipo... Giocare online... Tipo... Sub-Zero... Ben... Scorpio... Quanto è figo... Sei di nuovo un Revenant... Sono vittima della mia stessa ira... Raffredderò io la tua collera... Round 1... Vai... Uh... Scalcio... Scalcio... Afferrata... Spizzata... Spizzata... No... Afferrata... No... Afferrata... Vabbè... Ok... Non mi ricordo come si fa la fatality... Non mi ricordo come si fa la fatality... Come si vede la fatality? Comandi... Comandi alternativi... Sì... Comandi rapidi... Comandi rapidi... Sì... Scorciatoie... Colpisci dell'assolzione finestra del... Bu... Vabbè... Salviamo... Ricomincia match... Seleziona combattente... C'ha aperto in due... Veramente... Ma ci sono i trofei di questo gioco... Vabbè... Vabbè... Ehi... Che mossa ho fatta... Mori... Questo è il primo episodio... Ovviamente farò sempre le stesse mossa... Vabbè... 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 Non mi farò fare il culo... Vabbè... Inserificante... Io non voglio fare questa... Voglio fare quella lì... Del piede di fuoco... Vabbè... Ma... Cosa faceva? Fatality... Fatality... Da... 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 No... Non mi ricordo come si fa... Eh... Aspettate un attimo... No... Se lui mi dà tempo... Ok... Come si faceva... Come si faceva... C'è un modo... Per vedere la fatality... Tieni premuto... R2... E... Vabbè... Eh... Signori... Noi ci vediamo... Un prossimo episodio... Con... Mortal Kombat di sicuro... Ciao a tutti...